Oggi, nonostante gli sviluppi avvenuti e le situazioni a volte penose e persino drammatiche che si sono registrate, l'emigrazione resta ancora un'aspirazione alla speranza. È uno dei passaggi del discorso che Papa Francesco ha rivolto ai partecipanti al VII Congresso Mondiale della Pastorale dei Migranti. Soprattutto nelle aree depresse del pianeta, dove la mancanza di lavoro impedisce la realizzazione di un'esistenza dignitosa per i singoli e per le loro famiglie. È forte la spinta a ricercare un futuro migliore altrove, anche a rischio di delusione, di insuccessi provocati in gran parte dalla crisi economica che in misura diversa tocca a tutti i paesi del mondo. Nel corso dell'udienza il Pontificio ha messo a fuoco alcuni dei fattori che oggi inducono migliaia di persone ad abbandonare la propria casa in cerca di una vita migliore, invitando gli stati all'accoglienza. I migranti ha concluso con la loro stessa umanità, prima ancora che con i loro valori culturali allargano il senso della fraternità umana. Nello stesso tempo la loro presenza è un richiamo alla necessità di sradicare le inuguaglianze, le ingiustizie e le sopraffazioni. Nello stesso tempo la loro presenza è un richiamo all'acoglianze, le ingiustizie e i loro valori. Nello stesso tempo la loro presenza è un richiamo all'acoglianze, le ingiustizie e le ingiustizie e le ingiustizie. Nello stesso tempo la loro presenza è un richiamo all'acoglianze, le ingiustizie e le ingiustizie e le ingiustizie.